Un bacio più forte di ogni cosa, più forte del virus, più forte di qualsiasi medicina, un balsamo per l'anima, una scossa di energie in una lotta che non è ancora finita. Italo Salvadori e Antonia Guidolin, marito e moglie di 74 e 72 anni, sono una coppia di Cittadella, contagiati dal Covid a fine dicembre. Lei ricoverata in malattie infettive, lui in terapia semi-intensiva. Non avevano avuto più alcuna relazione diretta, ma dopo giorni di lontananza si sono potuti incontrare. Un bacio tenero sulla maschera che aiuta Italo a respirare, le mani che si intrecciano, un gesto mancato per troppo tempo e tanto desiderato. Antonia, appena è migliorata e non ha più avuto bisogno dell'ossigenazione, ha chiesto di Italo e così Sabrina, operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Cittadella, l'ha fatta sedere in carrozzina e l'ha portata da Italo, ancora ricoverato in terapia semi-intensiva. Una sorpresa rivedersi, un'emozione baciarsi, anche con la mascherina. Antonia, in procinto di essere dimessa, ha rincuorato il marito e gli ha detto che lo aspetta presto a casa. Una storia di speranza in questi tempi difficili, una storia che definisce la qualità dell'assistenza medica, che si misura anche con il termometro dell'umanità, ha detto il direttore generale dell'USL 6, Domenico Scibetta.